Lezione 1. Emozione per il viaggio. Ciao Anna, sei entusiasta del nostro viaggio? Ciao John. Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare una nuova destinazione e conoscere culture diverse. È bello sentirlo. Viaggiare ci permette di ampliare i nostri orizzonti e creare ricordi duraturi. Hai già preparato le valigie? Quasi finito. Ho creato una lista di controllo per assicurarmi di non dimenticare nulla di importante. E tu? E tu sei pronto? Anch'io sto facendo le valigie. È sempre una buona idea essere organizzati e preparati. Hai cercato luoghi imperdibili nella nostra destinazione? Sicuramente. Ho cercato monumenti famosi, attrazioni locali e gemme nascoste. È emozionante pianificare il nostro itinerario e sfruttare al meglio il nostro viaggio. Pianificare l'itinerario è metà del divertimento. È emozionante scoprire nuovi posti e immergerci nella cultura locale. Ci sono attività o esperienze specifiche che non vedi l'ora di fare? Sono particolarmente entusiasta di provare la cucina locale ed esplorare i vivaci mercati. Voglio anche dedicarmi ad attività all'aperto come l'escursionismo o lo snorkeling se ne presenta l'occasione. Assaggiare piatti locali ed esplorare i mercati sono sempre i momenti salienti di ogni viaggio. E le attività all'aperto aggiungono un senso di avventura. Assicuriamoci di immortalare questi momenti con le nostre fotocamere. Assolutamente. Le foto sono un modo meraviglioso per conservare i ricordi e condividere le nostre esperienze con gli altri. Inoltre, sono ottimi souvenir. Hai qualche consiglio fotografico? L'illuminazione gioca un ruolo cruciale nella fotografia. Prova a catturare momenti durante l'ora d'oro, che è l'ora dopo l'alba o prima del tramonto. Esalta la bellezza dell'ambiente circostante. Un altro consiglio è quello di interagire con la gente del posto e conoscere i loro usi e costumi. Aggiunge un livello più profondo alla nostra vita. Non potrei essere più d'accordo. Interagire con la gente del posto ci permette di conoscere il loro stile di vita e apprezzare la loro cultura. È una parte essenziale dell'essere un viaggiatore consapevole. Assolutamente. Abbracciamo ogni momento di questo viaggio e rendiamolo un'avventura indimenticabile. Non vedo l'ora di condividere questa esperienza con te. Viaggi sicuri. Lezione 2. Alla scoperta di Bali. Ciao Anna. Hai mai desiderato visitare Bali? Ho sentito che è una destinazione fantastica. Ciao John. Bali è sempre stata nella mia lista dei desideri di viaggio. Le splendide spiagge, il ricco patrimonio culturale e i paesaggi lussureggianti ne fanno un luogo incantevole da esplorare. Assolutamente. Bali offre una miscela perfetta di relax e avventura. Se avete in programma un viaggio lì, dovreste assolutamente includere una visita all'iconico Tempio di Uluotu. La vista del tramonto da lì è mozzafiato. Il Tempio di Uluotu sembra incredibile. Mi assicurerò di aggiungerlo al mio itinerario. Parlando di spiagge, hai sentito parlare di Nusa Dua? È nota per le sue acque cristalline e le coste di sabbia bianca. Sì, Nusa Dua è rinomata per le sue spiagge pittoresche e i resort di lusso. È un paradiso per gli amanti della spiaggia e degli sport acquatici. Non dimenticate di provare lo snorkeling o il surf mentre siete lì. Lo snorkeling e il surf sono sicuramente sulla mia lista. Esplorare la vivace vita marina e cavalcare le onde sembra un'esperienza incredibile. Ci sono altri luoghi imperdibili a Bali? Un altro posto da non perdere è Ubud. È il cuore culturale di Bali, circondato da lussureggianti terrazze di riso e villaggi tradizionali. Lì puoi immergerti nell'arte, nella danza e nella spiritualità bolinis. Ubud sembra un posto dove posso davvero entrare in contatto con la cultura locale. Mi assicurerò di esplorare i mercati tradizionali e assistere a uno spettacolo di danza tradizionale. Ci sono piatti unici che dovrei provare. Assolutamente. Quando siete a Bali, non mancate di provare il famoso Babi Gulling, un maialino da latte arrosto. È un piatto d'autore che offre un'esplosione di sapori e spezie. E per dessert, concediti il delizioso budino di riso nero bolinis. Babi Gulling e il budino di riso nero balinese sembrano delizie culinarie. Non vedo l'ora di assaporare i sapori locali e di scoprire la vivace scena gastronomica. Grazie per i consigli. Siete i benvenuti. La cucina bolinis è una delizia per le papille gustative. Ricordati solo di provare anche del caffè tradizionale bolinis. È noto per i suoi sapori e metodi di preparazione unici. Mi assicurerò di bere una tazza di caffè balinese per iniziare la giornata. È sempre emozionante scoprire nuovi sapori. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura a Bali. Pianifichiamo presto il nostro viaggio. Assolutamente. Cominciamo a pianificare e trasformiamo il nostro viaggio a Bali in realtà. Sarà un viaggio indimenticabile pieno di bellezza, cultura e delizie culinarie. Non vedo l'ora di esplorare Bali con te. Lezione 3 Catturare momenti con la fotografia Ciao Anna, hai mai provato la fotografia? Questo è il bello. Congela un momento per sempre. Ciao John. Sono sempre stato affascinato dalla fotografia. È incredibile come una singola fotografia possa catturare emozioni, raccontare storie e conservare ricordi. Assolutamente. La fotografia ci permette di esprimere la nostra creatività e vedere il mondo da una prospettiva unica. Hai dei soggetti o temi preferiti che ti piace fotografare? Mi piace catturare la bellezza della natura. Che si tratti di paesaggi, fiori o fauna selvatica, c'è qualcosa di magico nell'immortalare le meraviglie del mondo naturale. La fotografia naturalistica è davvero affascinante. Il modo in cui la luce interagisce con l'ambiente può creare composizioni straordinarie. Hai sperimentato diverse tecniche di illuminazione? Sì, sto imparando a conoscere l'ora d'oro. È il momento subito dopo l'alba o prima del tramonto in cui la luce è morbida e calda. Aggiunge un tocco magico alle fotografie. È un'ottima tecnica da padroneggiare. L'ora dorata infatti esalta la bellezza del soggetto e crea un'atmosfera accattivante. Quali altri consigli fotografici hai? Un altro aspetto importante è la composizione. La regola dei terzi può aiutare a creare una fotografia equilibrata e visivamente accattivante. Posizionando il soggetto fuori centro, aggiunge interesse e profondità. La composizione è fondamentale. La regola dei terzi è una linea guida fondamentale che può migliorare notevolmente l'impatto complessivo di una fotografia. È un'ottima tecnica da tenere a mente durante l'inquadratura degli scatti. Assolutamente! E non dimenticate la post-elaborazione. Può portare le tue fotografie a un livello superiore. Hai strumenti o software di modifica preferiti? Lightroom e Photoshop sono strumenti di modifica popolari. Offrono una vasta gamma di funzioni per migliorare i colori, regolare l'esposizione e perfezionare l'aspetto generale delle fotografie. Li hai provati? Mi sono dilettato con Lightroom. È un potente strumento per il fotoritocco e l'organizzazione. Mi permette di tirare fuori il meglio dalle mie immagini e creare uno stile di montaggio coerente. È fantastico! L'editing è una parte importante del processo creativo e trovare il proprio stile di montaggio può far risaltare le tue fotografie. Continua a sperimentare e affinare le tue abilità. Grazie la fotografia è un viaggio di apprendimento e crescita che dura tutta la vita. È entusiasmante esplorare nuove tecniche e superare i confini della creatività. Non vedo l'ora di immortalare altri momenti memorabili. Hai assolutamente ragione! La fotografia è un'avventura senza fine e ogni click dell'otturatore può congelare un momento per sempre. Continuate a immortalare quei momenti meravigliosi e divertitevi lungo la strada. Lezione 4. Abbracciare l'accettazione di sé Ciao Anna, hai mai pensato di accettarti esattamente come sei? È importante abbracciare il proprio corpo e iniziare ad amare se stessi incondizionatamente. Ciao John. L'accettazione di sé è qualcosa su cui ho lavorato. È un viaggio per imparare ad apprezzare e celebrare le nostre qualità uniche, sia all'interno che all'esterno. Assolutamente. Abbracciare il nostro corpo e accettare noi stessi senza giudizio ci permette di coltivare un'immagine positiva di noi stessi. Hai scoperto qualche strategia che ti ha aiutato in questo processo? Praticare la cura di sé e l'autocompassione è stato utile. Prendermi del tempo per coltivare il mio benessere fisico e mentale mi ha aiutato a sviluppare un rapporto più amorevole con me stesso. Meraviglioso. La cura di sé è essenziale per il nostro benessere generale. Può comportare qualsiasi cosa, dall'impegnarsi in attività che ci piacciono a dare priorità al riposo e al relax. Quali sono alcune pratiche di cura personale che trovi utili? Trovo conforto nella natura. Trascorrere del tempo all'aperto, che si tratti di fare una passeggiata nel parco o sedermi sulla spiaggia, mi aiuta a riconnettermi con me stesso e a trovare la pace interiore. La natura riesce a radicarci e a darci un senso di tranquillità. È un modo meraviglioso per ricaricarsi e ritrovare l'equilibrio. Ci sono altri aspetti dell'accettazione di sé che stai esplorando? Una mentalità positiva ha svolto un ruolo significativo. Spostare la mia attenzione dall'autocritica all'autocompassione mi ha permesso di apprezzare i miei punti di forza e accettare le mie imperfezioni. È fantastico. Coltivare una mentalità positiva è un potente strumento per l'accettazione di sé. Ci aiuta a riconoscere il nostro valore e ad abbracciare la nostra unicità. Come si pratica l'autocompassione? È un approccio bellissimo. Quali sono alcune affermazioni o mantra che risuonano in te? Un mantra che mi è piaciuto molto è «Sono abbastanza». John. Serve a ricordare che sono degno e meritevole di amore e accettazione così come sono, senza bisogno di fare paragoni o chiedere la convalida degli altri. Sono abbastanza è un'affermazione potente. È un'affermazione che afferma la nostra dignità intrinseca e ci ricorda che non dobbiamo lottare per la perfezione. Accettare noi stessi così come siamo è un'esperienza liberatoria. Assolutamente. Abbracciare noi stessi e praticare l'accettazione di sé ci permette di vivere in modo autentico e pieno. È un viaggio alla scoperta di sé e alla crescita che porta gioia e appagamento. Continuiamo a sostenerci e a rafforzarci a vicenda in questo percorso. Hai assolutamente ragione. Insieme, celebriamo la nostra unicità e incoraggiamo gli altri ad accettare se stessi. È un viaggio che vale la pena intraprendere e le ricompense sono incommensurabili. Lezione 5. Prenotare con fiducia. Ciao Anna, hai mai prenotato in un ristorante o in un hotel? È bello conoscere le tue esperienze e i tuoi suggerimenti. Ciao John. Sì, ho già effettuato delle prenotazioni. Può essere abbastanza semplice una volta che conosci il processo. Cosa vorresti sapere? Quando si effettua una prenotazione, è meglio chiamare o utilizzare piattaforme online? Apprezzerò qualsiasi consiglio tu possa fornire. Dipende dalle tue preferenze e dalla struttura. Molti luoghi offrono sistemi di prenotazione online che possono essere convenienti. Tuttavia, la chiamata consente di chiarire eventuali richieste specifiche o di chiedere direttamente la disponibilità. Questo è un buon punto. Le chiamate potrebbero fornire un'esperienza più personalizzata. Dopo aver effettuato una prenotazione, quali informazioni devi fornire? Quando si effettua una prenotazione, è essenziale fornire il proprio nome, la data e l'ora che si desidera prenotare e il numero di persone del gruppo. Alcuni luoghi potrebbero anche richiedere informazioni di contatto. È utile saperlo. È importante fornire dettagli accurati per garantire un processo di prenotazione senza intoppi. Ci sono altre considerazioni da tenere a mente? Sì. Alcuni luoghi possono avere requisiti o politiche specifici. Ad esempio, potrebbero richiedere una carta di credito per mantenere la prenotazione o avere determinati codici di abbigliamento. È bene informarsi in anticipo su tali dettagli. Capisco. Essere a conoscenza di eventuali requisiti o politiche speciali può essere un'esperienza. Per evitare sorprese il giorno della prenotazione. Cosa succede se è necessario cancellare o modificare una prenotazione? Se hai bisogno di cancellare o modificare una prenotazione, è meglio contattare la struttura il prima possibile. Apprezzeranno la cortesia e potrebbero essere in grado di soddisfare la tua richiesta in modo più efficace. Questo ha senso. È opportuno informarli tempestivamente in caso di modifiche. Ci sono frasi o espressioni comuni che usi quando effettui una prenotazione? Sì. Quando effettui una prenotazione, puoi usare frasi come Vorrei effettuare una prenotazione. Puoi verificare la disponibilità per data e ora e devo cancellare e modificare la mia prenotazione. Questi sono alcuni esempi. Grazie per aver condiviso queste frasi. Saranno sicuramente utili al momento della prenotazione. C'è qualcos'altro che pensi sia importante menzionare? Una cosa importante è essere educati e rispettosi quando si interagisce con il personale addetto alle prenotazioni. Sono lì per assisterti e un atteggiamento piacevole può fare molto per garantire un'esperienza positiva. Assolutamente. La cortesia e il rispetto sono essenziali in tutte le interazioni. Grazie per la conversazione approfondita e per i preziosi consigli su come effettuare le prenotazioni. Ora mi sento più fiducioso. Lezione 6. Preservare il nostro pianeta. Ciao Anna, stavo pensando agli sforzi che possiamo fare per preservare il nostro pianeta. È fondamentale agire e proteggere l'ambiente per le generazioni future. Ciao John. Sono completamente d'accordo. Preservare il pianeta richiede uno sforzo collettivo e azioni individuali. Quali sono alcuni passi che pensi che possiamo intraprendere? Un passo che possiamo fare è ridurre il nostro consumo di energia. Possiamo passare ad apparecchi ad alta efficienza energetica ed essere consapevoli del nostro consumo di elettricità. Questo è un ottimo suggerimento. La conservazione dell'acqua è un altro aspetto importante. Possiamo riparare le perdite, fare docce più brevi ed essere consapevoli del nostro consumo di acqua. Assolutamente. Un altro modo per contribuire è praticare il riciclaggio. Possiamo separare i materiali riciclabili dai nostri rifiuti e sostenere iniziative che promuovono il riciclaggio. Il riciclaggio ha davvero un impatto. Possiamo anche ridurre i nostri rifiuti optando per prodotti riutilizzabili anziché articoli monouso. È un piccolo cambiamento che può fare una grande differenza. Sicuramente. Un'altra area su cui concentrarsi è il trasporto sostenibile. Possiamo scegliere di camminare, andare in bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici quando possibile per ridurre le emissioni di carbonio. Il trasporto sostenibile è un ottimo punto. Inoltre, possiamo sostenere le pratiche agricole locali e biologiche acquistando prodotti coltivati localmente e riducendo la nostra dipendenza dalle merci importate. Sostenere l'agricoltura locale e biologica è un ottimo modo per promuovere l'agricoltura sostenibile. Un altro passo che possiamo fare è istruirci e diffondere la consapevolezza sulle questioni ambientali. L'istruzione e la consapevolezza sono fondamentali. Rimanendo informati e condividendo le conoscenze, possiamo ispirare gli altri a unirsi alla causa e fare scelte consapevoli per l'ambiente. Assolutamente. Ogni piccola azione conta e, se moltiplicata, può avere un impatto significativo. Ci sono altri suggerimenti o iniziative che vorresti menzionare? Un altro suggerimento è quello di entrare in contatto con la natura. Trascorrere del tempo all'aperto e apprezzare la bellezza del nostro pianeta può favorire una connessione più profonda e ispirarci a proteggerla. Non potrei essere più d'accordo. Il contatto con la natura ci ricorda l'importanza di preservare la biodiversità e gli ecosistemi del nostro pianeta. Continuiamo a fare scelte consapevoli e incoraggiamo gli altri a fare lo stesso. Insieme possiamo fare la differenza. Preservando il nostro pianeta, garantiamo un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Diamo l'esempio e diventiamo custodi dell'ambiente. Assolutamente. Diventiamo il cambiamento che desideriamo vedere e lavoriamo per un mondo più verde e sostenibile. Grazie per questa conversazione approfondita e per il tuo impegno a preservare il nostro pianeta. Lezione 7 Prezzi e condizioni di pagamento Ciao Anna, ho pensato a ciò che mi preoccupa di più quando si tratta di acquistare prodotti o servizi. I prezzi e le condizioni di pagamento svolgono un ruolo significativo. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Ciao John, sono d'accordo. I prezzi e le condizioni di pagamento possono influire notevolmente sulle nostre decisioni di acquisto. È essenziale considerare questi fattori prima di effettuare un acquisto. Cosa ti preoccupa in particolare? Una delle mie preoccupazioni sono le commissioni nascoste. A volte, il prezzo iniziale può sembrare ragionevole, ma i costi aggiuntivi possono sorprenderti. L'hai già sperimentato prima? Assolutamente. Le commissioni nascoste possono essere frustranti. È fondamentale esaminare attentamente i termini e le condizioni o chiedere chiarimenti per assicurarci di avere una chiara comprensione di tutti i costi coinvolti. Questo è un buon punto. La trasparenza dei prezzi è importante per creare fiducia tra l'acquirente e il venditore. Hai altri problemi relativi ai prezzi? Un'altra preoccupazione che ho sono le fluttuazioni dei prezzi. Alcuni prodotti o servizi possono avere prezzi non coerenti, il che rende difficile pianificare il budget o prevedere le spese in modo accurato. Posso capirlo. Le fluttuazioni dei prezzi possono essere imprevedibili e influire sul nostro potere d'acquisto. È utile tenere d'occhio eventuali tendenze o modelli dei prezzi. Assolutamente. Un altro aspetto da considerare sono i termini di pagamento. Alcuni venditori possono offrire opzioni di pagamento flessibili, mentre altri potrebbero richiedere un pagamento anticipato o avere scadenze di pagamento rigorose. I termini di pagamento possono effettivamente variare. È importante valutare la nostra situazione finanziaria e scegliere opzioni di pagamento in linea con il nostro budget e le nostre preferenze. Hai riscontrato condizioni di pagamento specifiche che ti riguardavano? Sì. Ho incontrato fornitori che richiedono il pagamento completo in anticipo, anche per acquisti di grandi dimensioni. Questo può essere un onere finanziario significativo. È utile trovare venditori che offrono piani di rateizzazione o modalità di pagamento. Sono d'accordo la flessibilità nei termini di pagamento può fare una grande differenza, soprattutto per spese più significative. È essenziale esplorare diverse opzioni e trovare ciò che funziona meglio per noi. Assolutamente. Anche la negoziazione dei termini di pagamento può essere utile in determinate situazioni. Vale la pena discutere con il venditore per vedere se c'è spazio per modifiche o personalizzazioni. La negoziazione dei termini di pagamento può essere un approccio intelligente. Ci consente di trovare un accordo reciprocamente accettabile e potenzialmente di risparmiare denaro o ridurre le tensioni finanziarie. Ci sono altre preoccupazioni relative ai prezzi e alle condizioni di pagamento che vorresti menzionare? Un'altra preoccupazione è la sicurezza dei pagamenti online. Con l'avvento dell'e-commerce, è fondamentale garantire che le nostre informazioni di pagamento siano protette e che utilizziamo piattaforme o gateway di pagamento sicuri. Questo è un punto importante. La sicurezza online è fondamentale quando si tratta di effettuare pagamenti. È essenziale scegliere venditori e piattaforme affidabili che diano priorità alle transazioni sicure. Assolutamente! Essendo cauti e vigili, possiamo proteggerci da potenziali frodi o accessi non autorizzati alle nostre informazioni finanziarie. Grazie per aver sollevato questa preoccupazione. Siete i benvenuti. È stata una conversazione preziosa. I prezzi e le condizioni di pagamento sono fattori cruciali nelle nostre decisioni di acquisto. Essendo informati e proattivi, possiamo fare scelte più sicure. Lezione 8. Caffè o tè? Ciao Anna, va bene, la preferisci nera o con il latte? Ciao John, con latte, per favore. E avete del tè? Sì, lo facciamo. Abbiamo una varietà di opzioni per il tè. Stai cercando un tipo specifico? Ho voglia di qualcosa a base di erbe. Hai del tè alla camomilla o alla menta piperita? Assolutamente. Abbiamo sia tè alla camomilla che alla menta piperita. Quale preferiresti? Oggi vado con tè alla camomilla. È così rilassante e rilassante. Grazie. Siete i benvenuti. Il tè alla camomilla è davvero un'ottima scelta per il relax. Vorresti del dolcificante o del miele con il tuo tè? Sì, un po' di miele sarebbe perfetto. Grazie. Siete i benvenuti. Ti porterò del tè con latte e miele a breve. Posso fare altro per aiutarti? In realtà, avete pasticcini o biscotti da accompagnare al tè? Sì, abbiamo una selezione di dolci e biscotti. Abbiamo croissant, muffin e biscotti con gocce di cioccolato. Quale preferiresti? Vado con un biscotto al cioccolato. Per favore. Sembra delizioso. Ottima scelta. Ti porterò del tè alla camomilla con latte, miele e un biscotto al cioccolato. Posso offrirti altro? Sarà tutto. Grazie. Siete i benvenuti. Goditi il tè e i biscotti. Se hai bisogno di altro, sentiti libero di farmelo sapere. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Non vedo l'ora di bere tè e biscotti. È un piacere per me. Ti auguro un momento rilassante e piacevole. Se hai domande o hai bisogno di assistenza in un secondo momento, non esitare a chiedere. Lezione 9. Detergente multiuso fatto in casa. Ciao Anna, sto sperimentando la creazione di un detergente multiuso fatto in casa usando aceto, acqua e succo di limone. Ciao John. Sembra interessante. I detergenti fatti in casa possono essere un ottimo modo per risparmiare denaro e ridurre l'uso di prodotti chimici aggressivi. Come si fa? È abbastanza semplice. Mescolo parti uguali di aceto e acqua, quindi aggiungo una spruzzata di succo di limone per un profumo fresco. Vuoi provare a farlo anche tu? Assolutamente. Sono sempre alla ricerca di alternative ecologiche. Posso usare qualsiasi tipo di aceto per questa ricetta? Sì, puoi usare aceto bianco o aceto di mele. Entrambi funzionano bene come detergenti. È solo una questione di preferenze personali. Buono a sapersi. E quale rapporto tra aceto e acqua mi consigliate? Suggerisco di utilizzare un rapporto 1-1. Ciò fornisce un buon equilibrio tra il potere pulente senza essere troppo forte. È possibile regolare il rapporto in base alle proprie esigenze di pulizia. Questo ha senso. Aggiungere succo di limone per un profumo fresco è un bel tocco. Migliora anche le proprietà detergenti. Il succo di limone contiene acido citrico, che può aiutare a eliminare grasso e macchie. Aggiunge anche un elemento antibatterico naturale al detergente. È bello sentirlo. Adoro l'idea di utilizzare ingredienti naturali per la pulizia. Ci sono superfici o materiali per i quali questo detergente potrebbe non essere adatto. È generalmente sicuro da usare sulla maggior parte delle superfici. Tuttavia, evita di usarlo su superfici in pietra naturale come marmo o granito, poiché l'acido contenuto nell'aceto e nel succo di limone possono causare danni. Questo è buono a sapersi. Lo terrò a mente. Oltre ad essere un detergente multiuso, ci sono altri usi per questa soluzione fatta in casa? Sicuramente. Questo detergente può essere utilizzato per vari scopi. È efficace per pulire controsoffitti, pavimenti, finestre e persino rimuovere le macchie dai tessuti. Wow! Allora è abbastanza versatile. Sono entusiasta di provarlo. Grazie per aver condiviso questa ricetta. Siete i benvenuti. Spero che lo troviate utile. È un modo semplice ed economico per mantenere la casa pulita e fresca. Lo apprezzo. È stimolante vedere come possiamo creare soluzioni di pulizia efficaci utilizzando ingredienti di uso quotidiano. Ci proverò sicuramente. È bello sentirlo. Sentiti libero di condividere la tua esperienza o qualsiasi altra ricetta di pulizia fatta in casa che trovi. È sempre interessante imparare nuove idee. Assolutamente. Vi terrò informati. Grazie ancora per il meraviglioso suggerimento. È un piacere. Buona pulizia e sperimentazione. Lezione 10 Pratiche commerciali sostenibili Ciao Anna. È bello vedere le aziende dare priorità alla sostenibilità e alle pratiche etiche. Ciao John. Assolutamente. È meraviglioso quando le aziende si assumono la responsabilità del proprio impatto sull'ambiente e sulla società. È una tendenza positiva. Sicuramente. Hai trovato esempi specifici di aziende che implementano pratiche sostenibili? Sì, di recente ho letto di un marchio di abbigliamento che utilizza materiali riciclati per creare i propri capi. Garantiscono inoltre salari equi e condizioni di lavoro sicure per i propri dipendenti. È impressionante. È importante sostenere i marchi che apprezzano sia il pianeta che le persone coinvolte nel processo di produzione. È una situazione vantaggiosa per tutti. Assolutamente. Supportando tali aziende, possiamo contribuire a un futuro più sostenibile ed etico. È piacevole vedere il cambiamento in atto. Sono d'accordo e incoraggiante assistere ai cambiamenti positivi che vengono apportati. Da speranza che possiamo creare un mondo migliore per le generazioni future. Sicuramente. Si tratta di fare scelte consapevoli come consumatori e sostenere le aziende in linea con i nostri valori. Il nostro potere d'acquisto può guidare il cambiamento. Assolutamente. Abbiamo il potere di influenzare il mercato con le nostre scelte. È importante informarci sulle pratiche dei marchi che supportiamo. Assolutamente. Essere consumatori informati ci consente di prendere decisioni migliori. È essenziale guardare oltre le dichiarazioni di marketing ed esaminare le azioni di un'azienda. Verissimo. È importante che le aziende siano trasparenti sulle proprie pratiche e si impegnino per il miglioramento continuo. La responsabilità è fondamentale. Assolutamente. Assolutamente. La trasparenza crea fiducia e aiuta i consumatori a prendere decisioni informate. È un passo positivo verso un futuro più sostenibile. Concordato. È stimolante vedere come le aziende si stanno facendo avanti e si assumono responsabilità. Continuiamo a sostenere e incoraggiare questi cambiamenti positivi. Assolutamente. Insieme possiamo avere un impatto significativo. Si tratta di creare un mondo migliore per tutti. Ben detto. Continuiamo a diffondere la consapevolezza e a sostenere le aziende che danno priorità alla sostenibilità e alle pratiche etiche. Insieme possiamo fare la differenza. Sicuramente. Piccoli passi portano a grandi cambiamenti. Grazie per questa conversazione. È sempre piacevole discutere di iniziative positive. È un piacere. È stata una bella conversazione. Continuiamo a imparare, crescere e ispirare gli altri in questo viaggio verso la sostenibilità. Assolutamente. Abbi cura di te e restiamo impegnati a creare un impatto positivo. Vi auguro una splendida giornata. Anche tu. Abbi cura di te e continuiamo a difendere la sostenibilità. Fino alla prossima volta. Lezione 11. Pianificazione della cena e dell'incontro. Ciao Anna. Stavo pensando alla cena di stasera. Ciao John. Sembra fantastico. Sono sempre pronto per un pasto delizioso. Cosa hai in mente per cena? Stavo pensando di fare la pizza fatta in casa. È sempre un piacere per tutti e possiamo personalizzare i condimenti a nostro piacimento. Sembra incredibile. Adoro la pizza. È un piatto così versatile. Quali condimenti suggerisci? Che ne dite di una classica pizza margherita con basilico fresco e mozzarella? Possiamo anche aggiungere delle verdure arrostite per insaporire ancora di più. Questa combinazione sembra perfetta. Mi piace la semplicità della pizza margherita e le verdure arrostite aggiungeranno un bel tocco in più. Conta su di me. Fantastico. Mi assicurerò di preparare gli ingredienti. C'è qualcosa di specifico che vorresti contribuire al pasto? Posso portare un'insalata fresca per completare la pizza. Ho della lattuga, dei pomodorini e dei cetrioli. Un condimento leggero alla vinaigrette dovrebbe accompagnarlo bene. Sembra un'aggiunta rinfrescante al pasto. Un'insalata bilancerà la ricchezza della pizza. Grazie per esserti offerto di portarlo. È un piacere per me. Mi piace contribuire ai nostri pasti insieme. È sempre bello condividere il carico di lavoro e creare qualcosa di delizioso in squadra. Assolutamente. Cucinare insieme non è solo divertente, ma anche un ottimo modo per creare legami e creare ricordi duraturi. Apprezzo le nostre avventure culinarie. Anch'io. È sempre un'esperienza divertente e gratificante. Non vedo l'ora di cenare stasera. Allo stesso modo. È sempre un piacere condividere un pasto e trascorrere del tempo insieme. Ci vediamo dopo e godiamoci una cena fantastica. Sembra un piano. A presto e soddisferemo le nostre papille gustative con una deliziosa pizza fatta in casa. Non vedo l'ora. Saluti. Arrivederci a presto. Che la cucina e il divertimento abbiano inizio. Lezione 12. Benefici dell'esercizio. Ciao Anna. Hai mai pensato ai benefici dell'esercizio fisico regolare? È incredibile come possa avere un impatto positivo sul nostro corpo. Ciao John. Assolutamente sì. Le attività fisiche sono essenziali per il nostro benessere. Ci mantengono in forma e aiutano a prevenire vari problemi di salute. Sicuramente. L'esercizio fisico non solo rafforza i muscoli, ma migliora anche la salute cardiovascolare. È un ottimo modo per mantenere la forma fisica generale. Assolutamente. È affascinante come l'esercizio fisico possa aumentare i nostri livelli di energia e migliorare il nostro umore. È come un esaltatore naturale dell'umore. Verissimo. Quando svolgiamo attività fisiche, il nostro corpo rilascia endorfine, che vengono spesso definite ormoni del benessere. Giusto. L'esercizio fisico può aiutare a ridurre lo stress e l'ansia. È un modo salutare per affrontare le sfide della vita quotidiana. Assolutamente. L'esercizio fisico regolare svolge anche un ruolo cruciale nel mantenimento di un peso sano e nella prevenzione di condizioni come l'obesità. Sicuramente. Può anche migliorare la qualità del sonno. Quando siamo fisicamente attivi, il nostro corpo tende a riposare più serenamente durante la notte. Questo è un ottimo punto. Un sonno di qualità è essenziale per il nostro benessere generale. L'esercizio fisico può contribuire a un migliore riposo notturno. Assolutamente. Un altro vantaggio dell'esercizio fisico è che migliora la nostra funzione cognitiva. Può migliorare la memoria e la concentrazione. Questo è affascinante. Dimostra che la forma fisica va di pari passo con l'acutezza mentale. L'esercizio fisico giova davvero a tutto il nostro essere. Assolutamente. È importante trovare attività che ci piacciono e fare dell'esercizio fisico una parte della nostra routine quotidiana. La coerenza è fondamentale. Verissimo. Che si tratti di ballare, fare jogging o praticare yoga, trovare un'attività che ci dia gioia rende l'esercizio più sostenibile. Sicuramente. Dovremmo anche ascoltare il nostro corpo e incorporare i giorni di riposo nella nostra routine per evitare sforzi eccessivi e prevenire lesioni. Questo è un promemoria importante. L'equilibrio è fondamentale in tutti gli aspetti della vita, incluso il nostro percorso di fitness. Dovremmo prenderci cura di noi stessi. Assolutamente. Diamo priorità alla nostra salute e al nostro benessere rimanendo attivi e facendo dell'esercizio fisico una parte regolare della nostra vita. Ben detto. Ispiriamoci a vicenda per condurre uno stile di vita sano e attivo. Insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi di fitness e goderne i benefici. Assolutamente. È sempre motivante avere un partner di supporto in questo viaggio. Ecco una vita in forma e appagante. Complimenti per quello. Rimaniamo impegnati per la nostra salute e accogliamo i numerosi vantaggi che derivano dall'esercizio fisico regolare. Continuate ad andare forte. Lezione 13 Idee per un'alimentazione sana e uno spuntino Ciao Anna. Mentre pianifichiamo i nostri pasti, non dimentichiamo di incorporare frutta e verdura. Sono ottimi per la nostra salute generale. Ciao John. Assolutamente. Frutta e verdura forniscono nutrienti essenziali e contribuiscono a una dieta equilibrata. Sono così utili. Sicuramente. Dovremmo puntare ad avere una varietà di colori nei nostri piatti. Frutta e verdura diverse offrono vitamine e minerali diversi. Assolutamente. È interessante come ogni colore rappresenti diversi nutrienti. Ad esempio, i frutti e le verdure arancioni sono ricchi di vitamina C. Questo è affascinante. E le verdure a foglia verde come spinaci e cavoli sono ricche di ferro e altri importanti nutrienti. Verissimo. È importante avere un mix di verdure crude e cotte per godere di tutti i loro benefici. Assolutamente. Le verdure crude sono ottime per gli spuntini e le verdure cotte possono essere incorporate in piatti deliziosi. È tutta una questione di varietà. Sicuramente. Parlando di snack, abbiamo bisogno anche di snack o dolcetti per soddisfare le nostre voglie tra i pasti. Questo è un buon punto. Scegliamo opzioni più salutari per gli snack, come noci, semi o frutta fresca. Forniscono energia e nutrienti. Assolutamente. La frutta secca e i semi sono ricchi di grassi e proteine sani, mentre la frutta offre una dolcezza naturale e una dose di vitamine. Giusto. Possiamo anche preparare snack fatti in casa, come bastoncini di verdure con hummus o yogurt con frutti di bosco. Sono deliziosi e nutrienti. Verissimo. Gli snack fatti in casa ci permettono di controllare gli ingredienti e fare scelte più salutari. Inoltre, sono divertenti da preparare insieme. Sicuramente. È un ottimo modo per creare legami ed esplorare nuovi sapori. Diamo sfogo alla creatività e proviamo diverse combinazioni. Assolutamente. Possiamo sperimentare diverse spezie e condimenti per esaltare il gusto dei nostri snack. Li renderà ancora più piacevoli. È un'idea fantastica. Trasformiamo un'alimentazione sana in un'avventura e scopriamo nuovi sapori lungo la strada. Si tratta di nutrire il nostro corpo. Assolutamente. Dando priorità a cibi nutrienti e spuntini consapevoli, possiamo alimentare il nostro corpo e sentirci al meglio. Passiamo a scelte salutari. Complimenti per quello. Diamo priorità al nostro benessere e godiamo dei benefici di una dieta equilibrata. Grazie per questa conversazione approfondita. È un piacere. È sempre un piacere parlare di salute e nutrizione con te. Continuiamo a fare scelte positive. Vi auguro una splendida giornata. Grazie apprezzo il tuo entusiasmo. Rimaniamo impegnati nel nostro percorso verso la salute. Abbi cura di te e ti auguro una fantastica giornata. Lezione 14. Esplorazione di sapori e ricette. Ciao Anna. Hai mai provato a sperimentare sapori diversi nella tua cucina? Può rendere i pasti molto più eccitanti. Ciao John. Assolutamente. Esplorare i sapori è un ottimo modo per migliorare la nostra esperienza culinaria. Aggiunge un tocco creativo ai nostri piatti. Sicuramente. A volte un semplice tocco, come aggiungere erbe o spezie, può trasformare completamente il gusto di una ricetta. Vale la pena provarlo. Assolutamente. È incredibile come un pizzico di cannella o una spolverata di peperoncino in scaglie possano elevare un piatto e dargli un sapore unico. Giusto. Possiamo anche esplorare diverse cucine per scoprire nuove combinazioni di sapori. È come portare le nostre papille gustative in un viaggio. Verissimo. Provare ricette di culture diverse ci espone a un mondo di sapori. È un modo divertente e delizioso per imparare. Assolutamente. E quando si prova una nuova ricetta, è importante seguire attentamente le istruzioni. La precisione può fare una grande differenza. Sicuramente. Le ricette forniscono una guida e garantiscono il raggiungimento del gusto e della consistenza desiderati. È come seguire una tabella di marcia culinaria. Questo è un buon punto. Tuttavia, una volta che ci sentiamo a nostro agio, possiamo anche aggiungere il nostro tocco personale e adattare le ricette a nostro piacimento. Verissimo. Possiamo effettuare sostituzioni o aggiustamenti in base alle nostre preferenze dietetiche o alla disponibilità degli ingredienti. Ci dà maggiore flessibilità. Giusto. Si tratta solo di trovare un equilibrio tra seguire le ricette e aggiungere il nostro stile. Rende la cucina più piacevole. Assolutamente. Possiamo anche prendere nota delle modifiche che apportiamo e creare le nostre ricette. È un modo meraviglioso per esprimere la creatività. È un'idea fantastica. Sviluppare le nostre ricette ci permette di condividere le nostre creazioni culinarie con gli altri. È un modo speciale per connettersi. Verissimo. Possiamo anche documentare le nostre ricette preferite e creare un ricettario personale. Diventa uno scrigno di deliziosi ricordi. Assolutamente. Continuiamo a esplorare i sapori, a provare nuove ricette e a trasformare la cucina in un'avventura. È un viaggio che non diventa mai noioso. Complimenti per quello. Abbracciamo la gioia di cucinare e assaporiamo i deliziosi sapori che creiamo. Grazie per questa stimolante conversazione. È un piacere. È sempre piacevole parlare di cibo e sapori con te. Continuiamo a sperimentare e ad apprezzare le delizie culinarie. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 15 Raggiungere l'equilibrio tra lavoro e vita privata Ciao Anna, mi sento sopraffatta ultimamente. Sembra che il lavoro stia prendendo il sopravvento sulla mia vita. Ciao John. Capisco come ti senti. È importante trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Concordato. Voglio godermi il mio tempo personale e non lasciare che il lavoro consumi tutta la mia energia. Devo trovare un modo per raggiungere questo equilibrio. Sicuramente. Un approccio potrebbe essere quello di stabilire confini chiari tra lavoro e vita personale. Aiuta a creare una separazione. Questa è una buona idea. Cercherò di stabilire orari specifici per le attività lavorative e ricreative. Mi aiuterà a concentrarmi su ogni aspetto separatamente. Assolutamente. Dare priorità alle attività e imparare a delegare quando possibile può anche aiutare ad alleggerire il carico di lavoro. Giusto. A volte esito a chiedere aiuto, ma è importante condividere le responsabilità e non portare tutto da solo. Sicuramente. Ricordati di fare delle pause durante la giornata. È essenziale ricaricarsi e mantenere la produttività. Assolutamente. Devo ricordare a me stesso che le pause non sono una perdita di tempo, ma piuttosto un modo per rinfrescarmi e ottenere prestazioni migliori. Verissimo. Impegnarsi in attività al di fuori del lavoro che ti portino gioia e appagamento è fondamentale anche per mantenere l'equilibrio. Questo è un punto fantastico. Mi assicurerò di dedicare tempo ai miei hobby e di trascorrere momenti di qualità con i miei cari. Assolutamente. Anche la cura di sé è importante. Prendersi cura del proprio benessere mentale e fisico dovrebbe essere una priorità. Sicuramente. Spesso trascuro la cura di sé, ma ne capisco il significato. È tempo di dare la priorità a me stesso e praticare l'autocompassione. Giusto. Quando il lavoro diventa impegnativo, è importante rivalutare le priorità e apportare modifiche se necessario. Assolutamente. Devo riflettere su ciò che conta davvero per me e fare scelte consapevoli in linea con i miei valori. Complimenti per quello. La ricerca di un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è un viaggio continuo. Ricorda che piccoli passi possono portare a cambiamenti significativi. Grazie per questa conversazione. Le tue intuizioni sono state preziose. Sosteniamoci a vicenda per raggiungere un soddisfacente equilibrio tra lavoro e vita privata. Lezione 16 Bucket List Adventures Ciao Anna. Ho avuto un'esperienza memorabile di recente ed è sicuramente nella mia lista dei desideri. Ciao John. Sembra eccitante. Sono curioso di saperne di più. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ho fatto paracadutismo. È stato assolutamente esaltante. La sensazione di cadere liberamente nel cielo era indescrivibile. Wow, il paracadutismo è qualcosa che ho sempre voluto provare. Come ti sei sentito quando sei saltato dall'aereo? Era un misto di nervosismo ed eccitazione. Ma una volta fatto quel salto, tutte le mie paure sono scomparse e ho sentito un'incredibile scarica di adrenalina. Deve essere stata un'esperienza incredibile. Come ti sei preparato? C'erano istruzioni specifiche? Sì, c'è stato un briefing approfondito prima del salto. Ci hanno spiegato le procedure di sicurezza e ci hanno insegnato come posizionare i nostri corpi durante il salto. Questo è buono a sapersi. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. Sei andato da solo o in gruppo? Sono andato con un gruppo di amici. Ha reso l'esperienza ancora più memorabile, condividendo con loro quel momento pieno di adrenalina. Sembra un'avventura fantastica da vivere con gli amici. Ci sono altre attività nella tua lista dei desideri? Assolutamente. Voglio anche fare un giro in mongolfiera e ammirare i panorami mozzafiato dall'alto. Oh, anche questo è nella mia lista dei desideri. Fluttuare nel cielo e godersi le viste panoramiche deve essere incredibile. Sicuramente. È un modo unico per vivere la bellezza della natura da una prospettiva diversa. Non vedo l'ora di cancellarlo dalla mia lista. Sono sicuro che sarà un'esperienza indimenticabile. Ci sono altri articoli nella tua lista dei desideri? Sì, mi piacerebbe imparare a fare surf. Cavalcare le onde e sentire l'energia dell'oceano è qualcosa che ho sempre voluto provare. Il surf sembra un'avventura elettrizzante. Richiede abilità ed equilibrio. Spero che tu abbia la possibilità di imparare e cavalcare quelle onde. Grazie, sono determinato a farlo accadere. È importante perseguire i nostri sogni e creare ricordi duraturi lungo la strada. Assolutamente. La vita è troppo breve per non inseguire le nostre passioni ed esplorare nuove esperienze. Continuiamo ad aggiungere avventure alla nostra lista dei desideri. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciamo le avventure della vita e sfruttiamo al massimo ogni momento. Grazie per questa stimolante conversazione. Lezione 17. Aumentare l'autostima Ciao Anna, ho pensato all'autostima e a come influisce sulla nostra felicità. Ciao John. L'autostima gioca un ruolo significativo nel nostro benessere generale. Quando ci sentiamo bene con noi stessi, ciò ha un impatto positivo sulla nostra felicità. Assolutamente. Credo che avere un sano livello di autostima ci consenta di affrontare le sfide della vita con fiducia e resilienza. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, cosa pensi che contribuisca a costruire e mantenere l'autostima? Penso che inizi con l'accettazione di sé e l'accettazione dei nostri punti di forza e di debolezza. Riconoscere la nostra dignità è fondamentale. Sicuramente. È importante praticare l'autocompassione e ricordare a noi stessi che meritiamo amore e rispetto. Assolutamente. Circondarci di persone positive e solidali può anche aumentare la nostra autostima. Questo è vero. Avere un forte sistema di supporto può fornire incoraggiamento e aiutarci a vedere il nostro valore. Forse dovremmo anche concentrarci sulla definizione di obiettivi realistici e celebrare i nostri risultati lungo il percorso. Sono d'accordo stabilire obiettivi raggiungibili ci aiuta a creare fiducia e ci dà un senso di realizzazione. Assolutamente. Prendersi cura del nostro benessere fisico e mentale può anche contribuire a un'immagine positiva di sé. Verissimo. Impegnarsi in attività che ci danno gioia e praticare la cura di sé può aumentare la nostra autostima. Forse dovremmo anche sfidare il dialogo interiore negativo e sostituirlo con affermazioni positive. Questa è un'ottima idea. Cambiare il nostro dialogo interiore per essere più solidali e gentili può fare una grande differenza. Assolutamente. È importante ricordare che l'autostima è un viaggio e richiede uno sforzo costante e un'autoriflessione. Sicuramente. Coltivare l'autostima è un processo continuo e vale la pena investire tempo ed energia in esso. Forse dovremmo anche imparare ad accettare i complimenti con gentilezza e credere nel feedback positivo che riceviamo. Sono d'accordo accettare i complimenti ci consente di riconoscere i nostri punti di forza e rafforza la nostra autostima. Assolutamente. In definitiva, lo sviluppo di una sana autostima porta a una maggiore felicità e realizzazione nella vita. Verissimo. Quando diamo valore a noi stessi, possiamo cogliere le opportunità, superare le sfide e vivere in modo autentico. Forse dovremmo incoraggiarci a vicenda a praticare l'autocompassione e celebrare le nostre qualità uniche. È un'idea meravigliosa. Sosteniamoci a vicenda in questo viaggio di autostima e miglioriamoci a vicenda. Assolutamente. Grazie per questa interessante conversazione. Continuiamo a coltivare la nostra autostima e a vivere al meglio le nostre vite. Lezione 18 Esplorazione della ricca cultura indiana Ciao Anna, ho sempre voluto visitare l'India un giorno. È noto per la sua vivace cultura e le sue diverse tradizioni. Ciao John. L'India è davvero un paese affascinante. C'è così tanto da esplorare, dai suoi monumenti storici alla sua deliziosa cucina. Assolutamente. Ho sentito dire che il Taj Mahal è assolutamente da visitare. È un simbolo d'amore e un capolavoro architettonico. Sì, il Taj Mahal è davvero mozzafiato. Il suo design intricato e lo splendido marmo bianco lo rendono un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sembra incredibile. Mi incuriosisce anche la cucina indiana. Ho sentito che è saporito e vario. Hai provato qualche piatto indiano? Sicuramente. La cucina indiana è nota per le sue spezie e i suoi sapori aromatici. Ho provato piatti come pollo al burro e biriani ed erano deliziosi. È bello sentirlo. Sono entusiasta di provare i diversi sapori e spezie quando vengo a trovarmi. Ci sono altri monumenti famosi in India? Sì, ce ne sono molti. Wow, sembrano posti straordinari da esplorare. Sono anche interessato a conoscere le tradizioni e i festival indiani. Ne conosci qualcuno? Assolutamente. Diwali è uno dei festival più popolari in India, noto anche come Festival delle Luce. È una celebrazione del bene sul male. Sembra affascinante. Sono sempre interessato a conoscere culture diverse e le loro celebrazioni uniche. Ci sono altri festival? Sì, Oli è un altro festival vivace celebrato con entusiasmo. È noto come il Festival dei Colori, in cui le persone si lanciano scherzosamente polveri colorate l'una contro l'altra. Sembra una festa divertente e gioiosa. Posso immaginare l'atmosfera vibrante. Ci sono regioni specifiche dell'India che consigli di visitare? Ogni regione dell'India ha il suo fascino, ma il Triangolo d'Oro è un popolare circuito turistico che copre Delhi, Agra e Jaipur. Questo è buono a sapersi. Mi assicurerò di includere il Triangolo d'Oro nei miei piani di viaggio. Sembra un ottimo modo per vivere l'essenza dell'India. Sicuramente avrai un assaggio della storia, dell'architettura e della ricchezza culturale di quelle città. È un'introduzione perfetta all'India. Non vedo l'ora di immergermi nella ricca cultura indiana ed esplorarne le meraviglie. Sarà un viaggio indimenticabile. Sono sicuro che lo sarà. L'India ha così tanto da offrire e sono entusiasta che tu lo sperimenti in prima persona. Goditi la tua avventura futura. Grazie le tue intuizioni hanno acceso ancora di più la mia voglia di viaggiare. Mi assicurerò di condividere le mie esperienze quando visiterò l'India. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 19 Suggerimenti per il cambio di valuta Salve Anna, sto programmando un viaggio all'estero e ho bisogno di qualche consiglio sul cambio di valuta. Ho sentito che ci sono diversi modi per cambiare denaro. Cosa mi consigliate? Ciao John. Questa è un'ottima domanda. Quando si tratta di cambiare valuta, ci sono alcune opzioni. Esploriamole. Bene, mi piacerebbe sentire i tuoi consigli. Qual è il modo più comodo per ottenere la valuta locale? Un'opzione è prelevare contanti dagli sportelli automatici di destinazione. È conveniente e spesso offre tassi di cambio competitivi. Tuttavia, fai attenzione a eventuali commissioni di transazione. Sembra una buona opzione. Mi assicurerò di verificare con la mia banca eventuali commissioni associate ai prelievi ATM internazionali. Ci sono altre opzioni? Assolutamente. Un'altra opzione è cambiare valuta presso una banca locale o un ufficio di cambio valuta. Di solito hanno tassi competitivi, ma è consigliabile confrontarli in anticipo. Questo ha senso. Cercherò i tassi di cambio presso diverse banche e uffici di cambio per trovare l'offerta migliore. Qualche altro suggerimento? Sì, c'è anche la possibilità di utilizzare una carta di viaggio prepagata. Queste carte possono essere caricate con la valuta locale e utilizzate come carte di debito o di credito. Offrono comodità e sicurezza. Sembra interessante. Ci sono vantaggi o svantaggi nell'usare una carta di viaggio prepagata? Un vantaggio è che puoi bloccare il tasso di cambio quando carichi la carta, proteggendoti dalle fluttuazioni valutarie. Tuttavia, tieni presente le eventuali commissioni associate all'attivazione della carta o ai prelievi presso gli sportelli automatici. Capisco. È importante considerare le commissioni e gli addebiti al momento di decidere quale opzione scegliere. Apprezzo l'intuizione. C'è altro che dovrei sapere? Un ultimo consiglio. È sempre una buona idea avere a portata di mano della valuta locale quando si arriva a destinazione. Può essere utile per piccole spese o situazioni in cui le carte potrebbero non essere accettate. Questo è un consiglio prezioso. Mi assicurerò di avere con me della valuta locale da utilizzare immediatamente. Grazie per la guida e i suggerimenti. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricordati di pianificare in anticipo, confrontare le tariffe e considerare le commissioni associate a ciascuna opzione. Buon viaggio e buona esperienza. Grazie apprezzo il tuo consiglio. Mi assicurerò di seguire i tuoi consigli e di prendere decisioni informate sul cambio di valuta. Non vedo l'ora che inizi il mio viaggio. Sono entusiasta per te. Viaggiare è sempre un'avventura. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Viaggi sicuri. Lo farò. La ringrazio per il suo sostegno. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori informazioni. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Lezione 20. Fuga romantica memorabile. Ciao Anna. Recentemente ho fatto un viaggio in una bellissima destinazione. Sembra così romantico. Ciao John. Oh, che bello. Torneresti di nuovo in quel posto? Sicuramente. Ho amato ogni momento del mio viaggio. L'atmosfera era incantevole e lo scenario era mozzafiato. Sembra assolutamente incredibile. Puoi dirmi di più sul posto che hai visitato? Certamente. Era un'affascinante città costiera con spiagge incontaminate e paesaggi pittoreschi. Oh, posso immaginare la bellezza della costa e il rumore delle onde che si infrangono contro la riva. È stato davvero affascinante. I tramonti dipingevano il cielo con tonalità vivaci, creando un'atmosfera romantica. Sembra incredibilmente romantico. Hai avuto la possibilità di esplorare la città e i suoi dintorni? Sì, in effetti. La città era piena di strade pittoresche fiancheggiate da case colorate e caffè affascinanti. Esplorare le strade locali e immergersi nella cultura deve essere stata un'esperienza deliziosa. Assolutamente. Ogni angolo rivelava una nuova gemma nascosta, dalle gallerie d'arte locali alle accoglienti librerie. Sembra un posto dove ci si può davvero perdere nella bellezza di ciò che ci circonda. È esattamente come mi sentivo. Il posto aveva un'aura magica che mi faceva dimenticare le preoccupazioni della vita quotidiana. Posso immaginare quanto debba essere stato ringhiovanente e rinfrescante. È importante fare queste pause. Hai assolutamente ragione. È essenziale per sfuggire alla routine e concedersi momenti di tranquillità e romanticismo. Non potrei essere più d'accordo. Momenti come questi creano ricordi duraturi e rafforzano i nostri legami con i nostri cari. A proposito di collegamenti, ho avuto l'opportunità di fare un romantico giro in barca lungo la costa. Oh, sembra incredibilmente romantico. Il dolce ondeggiare della barca e la brezza marina devono essere stati incantevoli. È stata un'esperienza davvero indimenticabile. L'acqua scintillante e le viste mozzafiato lo hanno reso un momento perfetto. Posso solo immaginare la gioia e la felicità che devi aver provato durante quel giro in barca. Era pura felicità. A volte, sono i momenti più semplici a lasciare l'impatto più profondo sui nostri cuori. È così vero. Sono le piccole cose che rendono una fuga romantica davvero speciale e memorabile. Assolutamente. Ho amato ogni momento e ho creato bellissimi ricordi che rimarranno con me per sempre. Sono felice di sentirlo. Le fughe romantiche sono un modo per ringiovanire la nostra anima e rafforzare le relazioni. Effettivamente. È stata una fuga tanto necessaria che mi ha permesso di riconnettermi con me stesso e la persona amata. Sono così felice per te. Grazie per aver condiviso con me la tua meravigliosa esperienza. È stato un piacere. Spero che ispiri gli altri a cercare momenti di romanticismo e avventura nella propria vita. Sono sicuro che lo farà. Ti auguro molti altri momenti memorabili e fughe romantiche in futuro. Grazie apprezzo le tue gentili parole. Che tutti possiamo abbracciare la magia e la bellezza che la vita ha da offrire.